Vedi, abbiamo sbagliato tutto nelle scelte. Abbiamo scelto malissimo. No, prima che inizi la registrazione, quando siamo fuori onda. No, perché pensavamo appunto di chiedere, parlavamo io con qualcuno, come proprio lavorare quest'anno sulla sperimentazione. Perché? Perché poi la Rosaria aveva questa domanda, quella cosa farne di quel che sappiamo quando ormai lo sappiamo, giusto? Sì, perché abbiamo sentito una lezione, un seminario a Sessola. Perché io vi seguo nell'ombra da casa con il bimbo piccolino e vi ascolto e sbobino la lezione. A volte non sappiamo... Aspetta, però secondo me dobbiamo farlo perché adesso che si riaccende la telecamera... Sì, è importante. Ok, Rosi, parla in modo che si senta nella visita. Quando ci attrociamo a un testo, a volte si attrociamo un volto di quello che c'è nel testo, anche se è la formazione che sappiamo, perché noi già lavoriamo con questi testi. E in una domanda che era messa in un seminario a Sessola e che era messa a me è questo. Quindi se io mi chiedere, se io mi chiedere, se io mi chiedere, se io mi chiedere, che abbiamo questa informazione, per l'inferenza, per l'inferenza, per l'inferenza e per l'inferenza. Per quello che non sia abbiamo visto le cose che abbiamo visto come si è lavorato, per l'inferenza per le cose che abbiamo visto e per noi non sia una ripetizione che abbiamo visto. Grazie, perché questa è una domanda importantissima nella situazione in cui siamo, in cui è uscito il libro. Io l'ho detto anche ieri e adesso provo a dirlo magari anche in un altro modo. Cioè, non soltanto nella prima fase di lavoro noi non dobbiamo far conoscere ai ragazzi il libro, ma anche rispetto a noi stessi. Non è che dobbiamo far finta di non sapere qualcosa. Ma dobbiamo capire che quello che c'è scritto che quello che c'è scritto lì nel libro non è tutto, non è affatto tutto quello che si può sapere e non sono affatto tutte le strade possibili che si possono percorrere lavorando con ognuno di questi testi. Cioè, non abbiamo pubblicato un manuale. è semplicemente uno dei percorsi possibili per entrare in quei testi. E quindi si può usarlo, cioè lo si può inserire nel lavoro solo nell'ultima tappa. quando chi studia non solo ha già letto il testo più volte, ma ha anche provato a attraversare, a seguire le sue strade di lettura del testo. Perché questo è molto importante? Adesso dirò una cosa. per cui mi criticano sempre nel mondo scientifico. Ai miei dottorandi io dico sempre all'inizio si scrive poi si legge. si leggono le fonti secondarie, cioè la critica. perché mi criticano nel mondo scientifico. Perché il modo normale che adesso si usa nel mondo scientifico è prima si deve leggere tutto quello che su quell'opera è già stato scritto e poi scriviamo il nostro testo. Ma che cosa succede quando un dottorando si fa riferimento a queste fonti secondarie? senza aver prima incontrato il testo a un livello tale per cui lui può già scrivere un suo lavoro. accade che chi si muove così non ha una sua posizione solida, stabile. dalla quale potrebbe verificare il valore di quello che ha affermato nelle fonti secondarie. perciò è costretto in tale posizione è costretto ad ammettere, ad accettare tutte queste altre informazioni come se avessero tutti pare diritto. e non può permettersi di dire questo è scritto una scemenza perché nel testo queste cose non ci sono. cioè prima di inserire informazioni che vengono da fonti secondarie nel nostro lavoro di ricerca nel lavoro di ricerca che facciamo con i nostri alunni dobbiamo dare a loro, permettere loro di arrivare a una loro posizione stabile da cui loro possano vedere se quello che gli viene detto da queste fonti secondarie corrisponde al testo o no. cioè il nostro lavoro di ricerca nel momento in cui noi non lavoriamo con i nostri alunni usando il libro che è uscito non è che facciamo i furbi e ci tratteniamo dal non raccontare cose che noi già sappiamo e facciamo finta che queste cose ci possano arrivare da soli credo invece che sia proprio la posizione più semplice, più naturale per un insegnante che abbia già letto il libro quel lavoro, il lavoro che può fare con gli studenti è una modalità per verificare quello che c'è scritto nel libro perché voi potreste fare un lavoro che mi porta proprio da un'altra parte lavorare con altri punti, seguire un'altra strada e poi viene quella una mappa che si può verificare quello che c'è scritto il libro serve per questo non è per dire, è già tutto scritto lì e noi dobbiamo trovare strade furbe per arrivare agli stessi risultati quindi però noi usiamo questa traduzione ovviamente perché questa traduzione, adesso lo dico per chi magari non lo sa è la nuova traduzione dei tre racconti che vi avevo segnalato per arrivare qui con avendo in mente il lavoro che hanno fatto loro quindi tenendo conto di tutto il lavoro su Dostoievski quindi noi utilizziamo queste traduzioni e il libro lo teniamo per noi come punto di verifica per noi sì, ma anche è possibile per tutti ma alla fine sì, forse alle conferenze dopo aver fatto il lavoro in classe e invece rispetto ai tre racconti lo chiedo proprio in modo molto terra terra cioè se in una classe ci troviamo che riusciamo a lavorare su perché i tre racconti hanno un filo, un legame e sono tutti e tre a tema nella sperimentazione però se noi ci troviamo in una classe in cui riusciamo a lavorare con un racconto secondo te ha senso lo stesso? no, è chiarissimo che si può lavorare singolarmente con ogni racconto perché ogni uno di questi racconti è un testo integrale a se stante e Dostoievski scrive questi testi questi testi che sono i testi letterari e artistici che inserisce nel diario di uno scrittore lo scrive e lo inserisce nel momento in cui capisce di stare arrivando a un'idea filosofica generale di tale profondità che se la esprimesse in parole chiare queste idee sembrerebbero innanzitutto banali in secondo luogo ridicole perché sono cose del tutto impossibili mentre lui invece vuole proprio portare il lettore a mettersi nel punto dove si trova lui ma questo è possibile e lui lo capisce benissimo solo se il lettore potrà fare la corrispettiva esperienza e questa è la cosa fondamentale che distingue l'arte da tutte le altre modalità di conoscere il mondo l'arte è qualcosa che ci trasmette non dei saperi ma ci trasmette la possibilità di fare esperienza ci trasmette un'esperienza ed è proprio per questo che l'arte è uno spazio bellissimo per rivivere le proprie storie che non avevamo vissuto fin in fondo ci sono cose che sarebbe davvero insensate provare a spiegare in modo razionale perché che qualcuno ci possa spiegare che qualcuno ci spieghi da un punto di vista razionale che hai avuto dei problemi nel rapporto con tua mamma lo si può fare fino alla fine della vita cosa che facciamo anche molti psicologi con grande successo cosa che fanno anche molti psicologi con grande successo mentre dare la possibilità di vivere fino in fondo una storia per far questo occorre creare uno spazio e gli strumenti per creare questo spazio li ha solo l'arte e infatti alcune correnti psicologiche iniziano a utilizzare questi strumenti e accadezzi e se ne ottiene una cosa estremamente interessante che è un lavoro suprimamente veloce ed efficace con il nostro inconscio che viene costruito, che viene impostato sul creare immagini e lavorare poi e trasformare queste immagini e attraverso questo tipo di lavoro si risolve in modo molto veloce cose per cui un paziente può trovarsi a fare psicanalisi e essere psicanalizzato per un decennio cioè qua abbiamo proprio una dimostrazione esplicita e bella del fatto che l'immagine è il linguaggio del nostro inconscio e questo è quello che fa l'arte scusate ma mi sono dimenticata la domanda che era stata posta mi sembra di non aver finito di rispondere possiamo usare le traduzioni sì, ho chiesto, possiamo scegliere tutti i racconti uno, due o tre perciò Dostoevsky quando ne ha bisogno quando ha bisogno di creare questo spazio per il lettore uno spazio in cui il lettore possa ricevere l'esperienza corrispettiva quella che ha fatto lui crea un testo artistico all'interno di un'opera che è un'opera di pubblicistica e questo spazio che crea ogni volta devono essere spazi completi perciò, oltre a tutto il resto non si può fare un'operazione del tipo troviamo cosa c'è in comune tra i racconti non lo si può fare prima di avere finito di lavorare con un singolo racconto fino in fondo come un inteso considerato come un intero come qualcosa di intero perché il paragone si può fare solo tra qualcosa di intero e qualcos'altro di intero allora il paragone può avere senso nel mondo uno dei metodi che per inerzia ancora oggi sono tra i metodi dominanti è il metodo comparativo e mi sembra che non ci sia nessun metodo che abbia fatto niente di peggio per distruggere lo spazio della letteratura che il metodo comparativo perché ovunque ci sono dei punti che possiamo mettere in paragone che sono simili e come se una grande quantità di ricercatori che usano il metodo comparativo è come se da questo fatto che ci sono questi punti sono del tutto già confortati e soddisfatti perché come dire il lavoro c'è vengono lette tutta una serie di testi e qui c'è questo qui la protagonista ha gli occhi verdi là la protagonista ha gli occhi verdi e là la protagonista ha gli occhi verdi e così qualcosa è stato spiegato non arrivo neanche a dire che gli occhi verdi semplicemente magari ci sono qualcosa che ci sia nella vita reale e un autore può prenderlo senza che ci sia nessun legame con un altro autore ma anche proprio all'interno di ogni insieme concluso di ogni intero di ogni testo il colore verde avrà un suo significato e nelle culture diverse il colore verde ha significati diversi e a seconda di dove è stato scritto un determinato testo questo colore avrà un diverso carico di significato quindi in realtà noi abbiamo fatto un grande lavoro ma per questo è completamente semplice per capire il testo comparativo in realtà un lavoro di tipo comparativo può essere un lavoro grandissimo ma che non porta nessun senso non dà, non chiarisce nessun senso rispetto al testo che si sta che si vuole leggere perché un dettaglio può avere nessi completamente diversi nel suo testo può significare qualcosa di completamente diverso il dettaglio può funzionare nell'intero del testo in cui si trova rispetto ad un altro in modo completamente diverso questo per noi è indispensabile vedere l'intero e vedere i rapporti reciproci dei dettagli all'interno dell'intero dopo di che già potremmo dire e guardate che diremmo cose assai più interessanti ad esempio potremmo dire in questo testo e in quest'altro testo Dostoevsky ci porta a uno stesso pensiero usando strumenti completamente diversi e questo sarà già molto più interessante nel libro però ci sono anche altri testi del dialogo di uno scrittore e questi tu li hai inseriti perché e come possiamo usarli sono dei testi che in modo più esplicito portano, comunicano al lettore quello che nel suo aspetto definitivo è presente solo nei testi letterari ma questi testi sono testi molto importanti e sono testi che spalancano che straziano proprio come l'anima del lettore proprio perché non sono testi artistici ma sono il racconto di episodi reali accaduti nella vita in particolare la storia del dottore Gindenburg è la storia di un uomo che senza affatto pensarci cambia completamente il mondo che lo circonda e questa è una di quelle possibilità che ci spalanca davanti il sogno di mamma perché uno si chiede ma io come posso cambiare il mondo? che cosa devo fare per cambiare il mondo? ed ecco che ci offre una storia segui semplicemente il desiderio profondo del tuo cuore perché noi che problema abbiamo con i nostri desideri più profondi adesso ci insegnano in modo molto coerente a non seguire i desideri più profondi del nostro cuore perché è come se fossero andassero contro i nostri interessi più immediati dell'ora perché Dostoevsky nel corso del dialogo di uno scrittore ci si tratta di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di dare tutto e dall'altra parte ma dare tutto non si può e proprio questa attenzione adesso aumenta ci insegnano continuamente a stare attenti ai propri interessi mentre Dostoevsky ci mostra che c'è il nostro interesse quello più prossimo a noi ci sono degli interessi ci sono degli interessi che sentiamo come più prossimi che sono legati alla nostra natura qui ma in realtà ci sono anche quei desideri più profondi del cuore e ci sono dei vantaggi che ci portano a dei vantaggi che riceve la nostra natura vera perché la nostra natura qui è una natura in una forma sotto un aspetto molto limitato è la nostra natura che coincide con quella delimitazione di noi che coincide con i confini del nostro corpo mentre la nostra natura vera ha tutt'altro volume, tutt'altra dimensione la nostra natura vera ha dei confini, una delimitazione dei confini che se li si possono trovare possono andare a combaciare solo con i confini di tutto l'universo secondo Dostoevsky cioè gli interessi della nostra pelle sono quegli interessi che emergono nell'uomo per un errore di percezione di chi è lui, percezione di se stesso come conseguenza di uno guardo radicalmente ridotto su se stesso per questo Dostoevsky dice che proprio nel momento in cui seguite i desideri della vostra natura vera voi выходite a una possibilità di entrare in interrelazione con tutto il mondo con tutto ciò che c'è nel mondo e allora il mondo inizia a cambiare Dostoevsky 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 comparativista Dostoevsky 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 Perché? Per la questione del tempo, il suo sogno attraverso i millenni. E' il tempo di vita di millenni è la vita di un pianeta, non di un uomo. Ma lui si trova a essere in relazione con quel pianeta attraverso tutto quel tempo, millenni. E quel pianeta alla fine si trasforma a sua immagine. E invece Leosha Karamazov abbraccia la Terra. E già molti lettori e molti ricercatori hanno visto in questo abbraccio un abbraccio sponsale. E anche qua viene fatto un paragone, sono messi in paragone come se avessero la stessa dimensione, il pianeta, la Terra e il personaggio. E si rialza dopo quell'abbraccio. E dopo, quando si è rialzato, Dostoevsky scrive. Tutta la sua anima era piena di tremito. E trepitava? Trepitava, adzivais miram e nem. Sentendo il richiamo, rimandando ad altri mondi. Ed era come se i figli che arrivavano anche da tutte le stelle più lontane fossero andati a ricondursi al suo cuore. E' chiaro che il primo desiderio che abbiamo davanti a una frase così è di vedervi una bella metafora. Ma in realtà qui non c'è nessuna metafora. Si tratta di una descrizione molto tecnologica di un uomo che ha scoperto in sé e per sé la sua vera dimensione. Ecco cosa fa Dostoevsky con il lettore. Se il lettore non è stato insegnato che tutta la letteratura è fatta di metafore. E che quindi non bisogna prendere sul serio nulla. E noi ci identifichiamo continuamente con i protagonisti. E' una questione molto importante nella nostra relazione col testo. E noi, leggendo quella frase, almeno per un istante possiamo sentire la stessa cosa. Ecco, tutto questo Dostoevsky lo fa all'interno di ogni singolo rapporto. Ci dà una possibilità di entrare in modo molto potente a sentire qual è il nostro vero compito, задачa e di vedere qual è la nostra vera natura. Un passaggio a questo livello ci sarà in ognuno dei racconti. Ma allo stesso tempo ci sono questi racconti di persone che l'hanno fatto nella realtà. Se non ci fossero questi racconti sulle persone reali, potremmo non prendere sul serio i racconti artistici. Tanto più che Dostoevsky appositamente denomina il sogno di un amore ridicolo come un racconto fantastico. Se ci fossero solo i racconti sulle persone, diremmo, va bene, ma queste sono persone così grandi, così, santi. A noi siamo noi che stiamo qua così. Mettere insieme gli esempi con questi spazi ci toglie la possibilità di pensare che noi non abbiamo niente a che fare con quello. Quindi noi questi testi con i ragazzi possiamo leggere in parallelo. Sì, 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 sì. C'è l'altro, sì, 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 perché se noi non facciamo con i nostri ragazzi l'operazione di coprire sistematicamente a loro, uscurare la possibilità di vedere, vedendo i nostri amici a qualche scopo già predefinito, loro possono vedere il testo, loro lo vedono il testo. E Dostoevsky non si fa tutto per cui ciò fosse visto. E Dostoevsky quel testo ha fatto tutto perché ciò fosse evidente. Perciò non è affatto indispensabile offrire ai ragazzi una conoscenza già preparata. Dobbiamo semplicemente sostenerli nel loro cammino di entrare in relazione col testo. Perché molto spesso noi lavoriamo invece proprio come quelle guide al museo di cui vi ho parlato prima. Noi con le nostre conoscenze personali diventiamo come una parete, ci facciamo parete che impedisce ai ragazzi di entrare in rapporto con il testo. Perché se noi all'ospettatore non avessimo raccontato la storia di Sant'Agostino e l'ospettatore si fosse trovato semplicemente davanti a quel quadro l'ospettatore avrebbe visto in modo del tutto chiaro che quel bambino indicava a Sant'Agostino il sole. Ma quando noi raccontiamo la storia capiamo che non capiamo niente. E che lì sta dicendo che lì non si può vedere niente. Quello che sappiamo sta indicando il fatto che lì non può vedere niente. Che è una conclusione che contraddice del tutto il testo figurativo, il testo che ci troviamo davanti agli occhi. Ma noi la storia la sappiamo già anche. Perciò la storia che sappiamo domina. Allo stesso modo noi arriviamo dai nostri allunni con una nostra conoscenza, un nostro sapere dominante che per i nostri allunni diventa un muro che gli impedisce di vedere il testo. Perché anche noi hanno insegnato a fare così. perché abbiamo pochi minuti, devo dare anche gli avvi. Sì sì sì, so che Tatiana mi ha già parlato tante volte, ma il racconto fantastico sottotitolo del sogno, che cosa sta a significare? E' una cosa molto importante. E' vero che lo ripeto continuamente, ma è perché è una cosa che non è evidente. Perché per Dostoevsky, se qualcuno ha anche lavorato con le notti bianche, possiamo perderci proprio di tutto, perché per Dostoevsky il fantastico non è affatto l'idea della dea fantasia che c'è nelle notti bianche. Cioè, non è il sogno, non è la fantasticheria. C'è due разные fantasi. Ci sono come due fantasi diverse. O meglio, c'è la fantasia e c'è il fantastico. La fantasia è quello che ci permette di andare al massimo, lontano al massimo da quella realtà presente, visibile e corrente che ci ha ormai rotto le scatole. Traduzione libera. Traduzione libera. Lasciamola così. Ecco, il sogno ci può portare là, lontano dalla realtà. Perché possiamo distanziarci da questo presente che ci ha stupati. E inizialmente questa cosa Dostoevsky, il geroe Dostoevsky, primimi словami, si chiama il giudice di vita. E questa fantasia, questa fantasticheria, è qualcosa che il protagonista di Dostoevsky a parole esplicite definisce come il veleno della vita. Mentre il fantastico appare in una citazione completamente diversa nel dialogo di uno scrittore. E appare nella citazione in cui Dostoevsky descrive il significato del valore dell'artista nel mondo. Dostoevsky dice, prendete un qualsiasi avvenimento reale e se solo avete gli occhi vedrete in quell'avvenimento una profondità tale che non c'è neanche in Shakespeare. Ma la questione è proprio chi ha gli occhi per fare questo, chi ha le forze per fare questo. Quindi l'artista coincide con questi occhi così potenti dell'umanità. che permettono di vedere la profondità del quotidiano visibile e corrente. Cosa significa? Che dal quotidiano non c'è bisogno, non si deve scappare via lontano. Ma bisogna solo guardare la profondità. Ma il quotidiano occorre guardarlo il più profondamente possibile. E questo è quello che sa fare l'artista. E Dostoevsky dice, ma noi di norma conosciamo soltanto quello che ci passa davanti agli occhi quotidianamente. E anche questo lo conosciamo solo in maniera superficiale. Mentre principi e fini per l'uomo sono tutte cose fantastiche. Allora ne deriva che il fantastico è la profondità ultima della vita reale. Quando Dostoevsky parla di principi e fini è una citazione praticamente esplicita, diretta. Perché è così che definisce se stesso più volte Cristo nell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. E' chiaro che per Dostoevsky tutto porta a Cristo. Ma in questo caso è proprio che Cristo è l'inizio del mondo di ogni cosa, l'origine. Come creatore. E la fine del mondo. Come salvatore. Come colui che riporta al mondo la sua immagine vera. Ecco che cos'è il fantastico per Dostoevsky. Il fantastico è qualcosa che mostra agli occhi del lettore il principio e la fine. che l'occhio che l'occhio dell'artista sono riusciti a vedere nella profondità della realtà quotidiana visibile e corretta. Cioè, a differenza della fantasia, il fantastico è la realtà più profonda e più reale che ci sia. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Dico solo velocissimamente che il seminario di oggi dà inizio alla sperimentazione che può avere la forma della formazione personale, come qualcuno ha fatto l'anno scorso, oppure della sperimentazione didattica in classe. Ci sono le due possibilità. La sperimentazione didattica in classe per noi si concluderà a martedì 31 marzo 2020, ammirandola con la conferenza conclusiva in cui i ragazzi che noi individueremo leggeranno le loro relazioni che hanno fatto su uno, due o tre dei racconti che sono messi a tema quest'anno. Io dico che vale la pena che uno provi. Cioè, penso a quando ho iniziato io, non sapevo niente, ho iniziato per un fascino. Anche perché siamo in un gruppetto, se lo vuoi provare ci aiutiamo. Poi abbiamo capito che forse meno cose si sanno meglio è. No, nel senso che uno parte lui, quei sei studenti. Qui abbiamo i libri di metodo, il primo che è quello con la traduzione degli scritti dal sottosuolo, dove c'è l'appendice che è tutta di metodo, scritta da Tatiana, e che riporta in parte anche i seminari che abbiamo fatto insieme, ed è preziosissima. E il secondo che è questo che anche a disposizione costa 18 euro qui in vendita, dove ci sono invece le traduzioni che useremo dei tre racconti, più ancora un appendice di metodo, più un'introduzione molto importante, perché qui Tatiana entra in merito anche alla filosofia di Dostoevsky e all'impatto che ha la filosofia di Dostoevsky nell'incontro con i ragazzi. Perché quello che noi abbiamo visto in questi anni è che succede questo, che i ragazzi incontrano qualcosa per sé, per la propria vita, incontrando Dostoevsky, e incontrando davvero la sua opera. E in questa introduzione c'è questo passaggio fondamentale che ci aiuta, che Tatiana ci aiuta a mettere a fuoco. Poi c'è un quadernetto che è proprio una cosa minima, però intanto ridice quali sono gli strumenti di metodo e poi presenta alcune relazioni che nella loro però semplicità fanno vedere che tipo di lavoro succede col testo quando i ragazzi si mettono a lavorare così. Quindi sono un esempio. Poi ci siamo noi che abbiamo iniziato, con cui ci si può incontrare tutte le volte che vogliamo, possiamo anche fare qualcosa insieme. Io e la Rosaria l'anno scorso abbiamo lavorato insieme tutto l'anno. Tra l'altro è stato un bellissimo esperimento essere in due nella classe, perché anche la diversità dei caratteri, dei punti di vista aiuta questo lavoro di guardare insieme, di vedere di più. Avete comunque ricevuto la mail, chi non l'ha ricevuta la riceverà perché si lascia il suo indirizzo, con tutto il percorso, quindi tutti gli step di cui il primo è questo e l'ultimo è la conferenza. I libri vi ho già detto, se volete prenderli sono a disposizione. Ultima cosa, dal 17 al 22 luglio 2020 faremo l'ottava scuola estiva, che esiste ormai da otto anni. Quest'anno il tema sarà l'opera La mite di Dostoevsky, che è un'opera piccola, perché dopo aver affrontato altre opere, Patiana dice questo intero lo vogliamo proprio vedere bene, quindi scegliamo un'opera piccola che possiamo lavorare, leggere, rileggere, giusto in modo che abbiamo tutti la possibilità di fare noi un lavoro che è quello che poi facciamo con gli studenti. Io non so come ringraziare tutti perché mi è sembrato un momento delizioso, molto bello, quindi grazie. Grazie, grazie. Vorrei dire un'ultima cosa come aneddoto fuori dalla telecamera. Quando Elena ha iniziato a spegnere... Eh ma, spegni perché... Fuori dalla telecamera, spegni! Soprattutto se riguarda me. Sì, riguarda me e te. No, lo dico perché siccome uno ha sempre paura, uno dice ma non sono esperto, eh. Allora io sono otto anni che vado alla scuola estiva, sono eh. Quando Elena ci ha parlato di come si sposi domenica, sabato e domenica, è partita dalla parola che ha illuminato lei, che è una cosa che ha detto Bortolo quando parla a Renzo e gli dice che quelli che stanno arrivando per la guerra sono eretici. Io parlo da eretico... Quindi se non devi andare... Eh, non devi andare... Quanto a me sono eretico. Quanto a me sono eretico, ma dico questo, voleva dire, in realtà il dottato di Milano non è così debole, vedrei che non sarà come semplice entrarci, ok? Lei dice, lavorate su questo pezzo, poi la mattina dopo... Queste sono le parole che vi hanno fatto inciampare. Io avevo notato questo eretico che mi sembrava strano, ma chiaramente non l'ho detto, perché ho detto figurati sono io che non capisco come al solito, sicuramente è tutto chiaro. Sei la seconda che me lo dice. Ecco, non ho avuto il coraggio di dire a me la parola eretico qua non mi torna e lei da quella parola ha ricostruito l'interpretazione dei promessi sposi. ma io ancora una volta non mi sono fidata di me perché noi siamo remitenti, cioè facciamo fatica a fidarci di noi stessi fino al punto di dare credito al fatto che se non hai capito una parola che non ti torna puoi iniziare tutto. lo dico per dire che... cioè per farmi il coraggio da sola per dire guarda come sei messa cioè perché effettivamente noi non ci crediamo fino in fondo e invece lei è partita da lì e io ho fatto finta di non vederlo ho fatto come quelli là che dicevano ma la storia è diversa ma sarà così perché io non lo... no? per cui lo dico per questo perché volevo dirtelo e no ma per dire un'altra insegnante che era lì mi ha detto alla fine mi ha detto io avevo pensato che lì non capivo ma poi nel mio manuale ai promessi sposi tutto commentato c'era una nota che diceva sono eretico significa non ci credo e per cui lei si è fermata se l'ha spiegata è andata avanti esattamente l'esempio ed è una cosa molto importante io sempre parlo anche nei manuali russi che fanno così perché molto spesso quando nei testi si commentano in realtà si chiudono i problemi perché molto spesso quando nei testi si commentano in realtà si chiude tutto il campo delle domande che si potrebbero aprire non ci dicono niente che ci spiegherebbe la situazione ma è come se noi avessimo avuto la risposta e tutto bene grazie 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 grazie